Devo fare una chiamata un attimo a Dario Moccia Dario sei in live? No, io sono in live Ah, ciao Senti un po', che fai? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, tutto bene Ma mi hai per caso già mandato i 3 box? Non ti avevo mai promesso 3 box, Simone Anzi, non me l'hai mai chiesto, in verità Ma sono già in viaggio? Aspetta, forse ne sono spiegato proprio male Non mi hai chiesto dei box e io non te li ho mai promessi Sì, sì, ma nel senso sono in viaggio o no? Aspetta, forse c'è un'integna, no, è normale perché a volte sai delle connessioni, eccetera Ti dicevo, quando abbiamo parlato, abbiamo parlato delle carte, sei chiesto la liberatoria, eccetera A te non mi hai mai chiesto dei box e io non te li ho mai quindi promessi Ah no, ma ci sono, ci sono, fin qui ci sono, fin qui ci sono, ma sono in viaggio o no? Allora, senti, mi pare che, così a naso però non ricordo bene Adesso devo controllare un attimo i miei appunti Mi pare che non mi avevi mai chiesto dei box E quindi, in conseguenza, io non te li avevo mai preventivati, capito? E, mh, c'è questo problema qua Quindi non sono in viaggio Eccoci Dove? Cioè, alla porta coi sassi del nostro discorso attuale Non, 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 sei criptico, sono in viaggio? Sì, mi stanno arrivando? Che ai ragazzi ho promesso lo spacchettamento Aspetta, sto controllando, aspetta un attimo Sto controllando su questo mio portale, web Quale usi? Opera? No, no, no Graminacei si chiama, aspetta un attimo Ah, come i... l'alimento No, graminacei, no, questo è graminacei Graminacei, sì, sì, è una rata Sono allergi per i graminacei Eh, vabbè, grazie loro, aspetta un attimo comunque Ok, ho qui la mail Praticamente sto guardando Che non abbiamo preventivato dei box per te Perché praticamente mi risulta dalla mail Che te non me le hai mai chiesti Aspetta e controllo sul mio portale web Vai Grami Con due, ok Ok, ok, ok Io leggo qui dalla mail Sì Hai ragione Ma sì Comunque Devo mandarne un'altra? No, comunque, demente Ascoltami, per quanto riguarda i box noi abbiamo vabbè ci sono i box pre-order ma poi vengono stampati dei box in prima edizione a parte per voi quindi non ti starà preoccupare quanti te ne devo preventivare? no non mi devi di niente lo so già io quanti davvene quanti mandavvene non ti preoccupi quanti te ne devo preventivi? non lo so 2-3 sicuramente se li spartiti il live te ne manderò 2-3 2-3 tipo 3 vabbè 3 vabbè ti ne mando 3 va bene? ma se vuoi fare già hai detto 4-4 che ti vengono a sbordare in terra ti sto dicendo che farò una lista con Federic e semplicemente facciamo e decido io che a chi mandali a chi li vuole spacchettare a chi non li vuole spacchettare e mi manda non ti preoccupare non ti lascio a bocca asciutta ok la mia carta è Olo? ma lo sai benissimo lo sai la tua carta non è Olo non hai due poi te tecnicamente una sì una è importante vabbè comunque no non è Olo la tua qui ti troverai subito il vantaggio è quello ok va bene va bene va bene va bene ci sentiamo ciao 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 anche questa parte è stata risolta avevo questo piccolo dubbio è giusto anche è giusto anche capire allora allora è giusto anche capire grazie a tutti